Il pericolo è sempre in agguato. Non temere mio tesoro, nessuno ti farà del male. Ci sarò sempre io a proteggerti. Ah, il mio tesoro. Mio tesoro. Wow, Sam, hai qualche rotella fuori posto? Ma che dici, Roger? È solo che tengo davvero tantissimo i miei dolcetti. Già, tipo quel gelato che ancora abbiamo nel freezer? Meglio dare un'occhiata. E se qualcuno te l'avesse rubato? Giusto, torno subitissimo. Eccoti qui, mio adorato. Ecco, nasconditi qui. Nessuno metterà le mani su di te. Specialmente quel criceto. Certo che Sam è proprio goloso. Mi chiedo, chissà i suoi denti? A proposito, ma uno slime ci va dal dentista? Tutto a posto, Roger. Il gelato è al sicuro. O meglio, lo era finché non l'ho mangiato. Ma, ma dov'è la mia Nutella? Oh, chi l'ha presa? Roger, tu eri qui. Sicuramente avrai visto chi è stato... Sam, a dire il vero, sei stato... Ah, è stato di nuovo quel furbo di un criceto. Non lo sai? Un criceto può sgraffignare qualsiasi cosa in un batter d'occhio. Sicuramente è stato lui. Oh, forse no. Chi lo sa? Oh, devo scoprirlo! Sammy, guarda che la Nutella l'hai presa tu. Quando... Non dire altro, Roger. So io che cosa ci vuole. Una torre di guardia. Beh, almeno ti terrà occupato. Ciao ragazzi. Oggi costruiremo... Una torre di guardia con i fiocchi. Naturalmente in miniatura, ma sarà davvero realistica. Ben detto, Roger. Soprattutto terra va dei ladri di dolcetti. Ah, quei ladroncoli... Già, ma li proteggerà anche da te? Cominceremo da questa base. E qui sopra costruiremo tutta la struttura. Sei sicuro? Sembra un po' traballare. Sì, ma abbiamo appena cominciato. Prima di tutto, mettiamo un po' di colla. Così. Su tutta la superficie. Ok. Ora procediamo a incollare il progetto. Sam, dov'è il progetto? Roger, come faresti senza di me? Devo pensare a tutto io, Chris. Ti dimentichi anche dove hai messo le cose. A me non capita mai. Sam, ti ricordo che la tua Nutella... Non parlarmene, me l'hanno rubata, accidenti. Se lo dici tu. Comunque ecco il progetto, grazie. Incolliamolo. Wow, Roger, che cosa sono tutti questi disegni? È il progetto, appunto. Così sapremo dove sistemare la torre e le sue mura. Ma come? Qualcuno l'ha già deciso. Volevo progettarla io di persona. Vedrai che sarà perfetta, Sam. E la parte interessante è la costruzione. Bisogna piegarla attentamente. Sui lati e qui in cima. Semplice, semplice. Ah, adesso capisco, Roger. Ma per farla bella robusta servirà un sacco di colla. Proprio così, prode cavalier Sam. Cavaliere, hai detto? Sì, mi ci vedo. Mi ci vedo moltissimo. Ebbene, signor Roger, accetto il titolo. Quando partiamo alla conquista del mondo... Una cosa alla volta, Sam. Prima finiamo la torre, poi si vedrà. E poi non credo che sua proverebbe. Detto tra noi e lei, non diremo proprio niente, ok? Cosa? Non voglio che sappia dei miei piani di conquista. Non pensi che scoprirà tutto guardando il video? Bene, ragazzi. La struttura di base è completa. Ora rendiamo la torre più robusta. Ragazzi, ora entriamo nel vivo del nostro lavoretto. La parte migliore. I mattoncini! Sì, sì, Sam. I mattoncini. Forza, cominciamo a costruire. La torre! Sì, sì, ma non c'è bisogno che urli, Sam. Era per rendere tutto ufficiale, insomma. Va bene. Per la nostra costruzione ci servirà altra colla. Guarda come sta venendo bene, Sam. Sai, ho sempre adorato le costruzioni. Che bravo, Roger! Quante cose hai già costruito? Che domande, Sam. Abbiamo costruito un sacco di cose belle insieme. Ragazzi, riguardatele tutte sul nostro canale. Ciao! Ciao! Alla prossima! Ora sì che ragioniamo! Roger, queste finestre le terremo chiuse? No, di certo, Sam! Ora le sistemiamo! Ecco la seconda! Perfetto! Roger, vado a tenere d'occhio Ginger il criceto, non mi fido! È stranamente silenzioso! Non dimenticarti di fortificare anche il retro della torre, ok? Sam, mentre pensavi al criceto, io ho pensato già a tutto qui! Wow, Roger, sei il mio eroe! Ok, vado! E io continuo a costruire! Ragazzi, forza con i mi piace per questo progetto! E iscrivetevi al nostro canale! Sam, sei ancora qua! Non eri di fretta? Infatti, scappo! Ciao! Arrivo! Vedete ragazzi? La nostra torre sembra proprio vera! Servono anche le scale per arrivare in cima! Sì, le scale! Guardatemi, sono il re del mondo! Sam, usa le scale! Sì, chiedo scusa! Non fa niente! Tra l'altro, la cima dobbiamo ancora costruirla! Sì, chiedo scusa! Ragazzi, la torre di guardia è completa! Però, ci vuole ancora qualche piccola decorazione! Wow, Roger! E quello che cos'è? Una pista per elicotteri? O un reattore nucleare per Iron Man? Ora che ci penso! Iron Man lì sopra a fare la guardia ci sarebbe benissimo! Niente del genere, Sam! È un pozzo! Ottima idea! Così non ci mancherà mai l'acqua! Esatto! E ora ci mettiamo un po' d'erba e qualche sentiero! E ora ci vediamo! Roger, se Iron Man non viene, allora ci serve qualche altro supereroe per fare la guardia di... Non preoccuparti, Sam! Ne abbiamo già uno! E chi è, Roger? Sabbia Man! E sono io! Wow! Non sapevo che fossi un eroe! Allora sarò Sabbia Slime! Ancora Sabbia! Ancora! Roger, mettiamo anche un giardino, dai! Sam, ma che hai combinato? Datti una pulita! Eh, va bene! Uffa! Ragazzi, abbiamo finito! Guardate che meraviglia! Signore e signori, benvenuti! Prego, fate un giro della nostra torre di guardia! Accomodatevi! Ho messo anche delle luci all'interno! Ed ecco come si vedrà la nostra torre di notte! Ragazzi, vi è piaciuta la nostra torre? Mettete tanti like! Fantastico, Roger! Adesso nessuno si azzarderà più a rubare i miei dolcetti! Eh, Sam, a proposito, volevo dirti una cosa, ma... Di che si tratta, Roger? Della tua Nutella! L'avevi nascosta e te ne eri dimenticato! Ginger è innocente! Ups, dimenticato! Ma voi ragazzi non dimenticate di iscrivervi al nostro canale! Ciao! Ciao, ciao ragazzi! Buongiorno a tutti! Grazie a tutti.